The tech must go on. Are you ready to invent? Are you ready to draw? Ok, let's do it. Tech on. Go! Iniziamo questo podcast di tecnologia partendo da una semplice domanda. Cos'è la tecnologia? Ormai tutti la usiamo ma sono in pochi a sapere veramente cos'è. Innanzitutto diciamo cosa fa la tecnologia. La tecnologia utilizza la scienza per risolvere un problema o per creare un prodotto. Probabilmente ti piacciono molto i film come Iron Man oppure Già e alcuni gadget e aggeggi. Come i più recenti smartphone e videogiochi per le utilissime console, ebbene, si tratta di prodotti di tecnologia. La tecnologia è costituita da tutte quelle cose nuove e che la scienza permette alle persone di fare e creare. Auto, tecniche chirurgiche, computer, robot, strumenti di comunicazione, eccetera. Dal momento che la scienza è in continuo progresso, lo è anche la tecnologia. Più gli scienziati imparano, più ci aiutano ad utilizzare la tecnologia per creare uno sviluppo, inteso come miglioramento continuo, che sia sempre più sostenibile. Il futuro della tecnologia, in alcuni ambiti, è già presente. Occhio o arti bionici, reborn, domotica, Android Caregiver, schermo interattivo trasparente, stampante 3D barra 4D, irrigazioni a comando remoto, chirurgia a distanza con la robotica, intelligenza artificiale, 5G, IoT, realtà aumentata, realtà virtuale, assistenti virtuali, metaverso, eduverso, computer quantistici e molto altro ancora. Ciò premesso, in modo più rigoroso, possiamo dare la seguente definizione. La tecnologia è la disciplina che si occupa di tutto il processo necessario per la trasformazione delle materie, prime in beni, cose materiali o servizi, cose non materiali, che soddisfino i bisogni dell'uomo. Impara questa definizione a memoria perché rappresenta la vera chiave di lettura per tutti gli argomenti che tratteremo in futuro. Per approfondire il discorso scarica e copia la mappa che trovi sul mio sito web alla pagina Tech. La Tech è facile, veloce e funziona. Cerca su Google, ingcad.tech e segui ingcad su Telegram, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, Blogspot ed altri social. Resta collegato, ci seguiamo al prossimo podcast. Tech.com